Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 maggio del 2020. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato più tutto e oggi io voglio iniziare più che con delle scuse e con dei ringraziamenti. Io voglio ringraziare Sua Eccellenza lo straordinario avvocato, presidente, eminenza avvocato Giuseppe Conte perché oggi leggo sul Corriere della Sera che quest'estate noi potremo andare in vacanza. Grazie, presidente Conte. Io vorrei ringraziare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha giustamente definito dei delinquenti e con lui i sindaci delle città di Palermo, i sindaci delle città di tutta Italia che stanno combattendo questa battaglia contro quei mafiosi, delinquenti, criminali che vanno nei parchi. Io li ringrazio, sindaci! Senza di voi questa sarebbe un'Italia di merda! E voglio ringraziare il commissario europeo Gentiloni che oggi in un'intervista a Repubblica che cosa ci spiega? Ci spiega che gli italiani e lui e la politica ha gestito questa emergenza e che noi siamo un modello per tutto il mondo. Grazie, Gentiloni! Vorrei ringraziare l'Europa per avermi fatto capire perfettamente in che cosa consiste il MES e voglio veramente ringraziarla stringendo le mani ai funzionari di questa straordinaria comunità che hanno spiegato che arriverà un recovery fund da migliaia di miliardi ma di cui ancora nessuno bene sa i dettagli. Vorrei ringraziare soprattutto il ministro dell'economia Gualtieri che oggi si è prestato a fare un'intervista al messaggero. Grazie, eccellenza Gualtieri! Fa un'intervista al messaggero per spiegarci, anzi per non svelare completamente le 766 pagine del decreto di aprile ma che grazie Gualtieri non lo fai ad aprile, lo fai a maggio! Così, no? Pleasure Delayer! Finalmente riusciamo ad avere un po' di attesa verso questi doni straordinari che come i bambini piccoli aspettano il 25 di dicembre beh, i doni straordinari arriveranno tra qualche ora grazie Gualtieri che ci fai ancora, come possiamo dire, godere l'attesa di questa sorpresa 766 pagine! In queste interviste ci spieghi che ci saranno delle cose straordinari ma grazie soprattutto a Sua Eccellenza l'Avvocato Bonafede! L'Avvocato Bonafede che è diventato Ministro della Giustizia e che con imperitura, abnegazione, combatte contro i boss mafiosi 500 che sono usciti ma oggi con un decreto quei tremendi boss mafiosi ritorneranno in carcere e oggi il Fatto Quotidiano ci spiega che grazie a Bonafede ritornano in carcere quelli che forse proprio grazie a Bonafede erano usciti ma grazie Ministro! Ci hai fatto capire che cosa voleva dire far uscire le persone dal carcere e poi ci hai fatto capire cosa vuol dire tu che sei un uomo che combatte contro la mafia a farli rientrare grazie, grazie a tutti voi questi italiani fanno schifo perché vogliono andare nei parchi vogliono andare nelle spiagge pensano che un ministro non può cambiare una circolare nel giro di un mese pensate un po' voi ci sono degli italiani che si lamentano perché sono due mesi l'80% di quelli che ne avrebbero diritto che ancora non hanno la cassa integrazione grazie a questa grande classe dirigente e grazie soprattutto a Der Commissari Oh! Arcuri! l'uomo che ci aveva promesso che le mascherine le andavano a 50 centesimi l'uomo che aveva promesso le aziende le aveva instigate come dice qualcuno oggi a produrre mascherine che poi lo Stato avrebbe comprato in quantità e poi li fotte e li mette a 50 centesimi grazie Arcuri! perché ci hai permesso di vivere senza mascherina noi delinquenti che ci dobbiamo vergognare perché possiamo sempre avere la scusa di dire che non c'erano in farmacia grazie a questa grande classe dirigente che ho fatto del modello italiano e del giornale unico italiano un esempio che tutto il mondo ci segue e ora possiamo iniziare la zuppa di porro benissimo intervista al Presidente del Consiglio oggi sul Corriere della Sera un'intervista in cui come al solito non c'è scritto nulla nulla l'Italia ha reagito molto bene a questa emergenza come vi ho detto anche questa beh poi soprattutto sul decreto fiscale di genti che stiamo aspettando d'aprile ma qui c'è di tutto 766 pagine tutti i boxini intanto mi sono sbagliato vi avevo raccontato che c'era questo decreto sulle edilizia che era straordinario non è così non è così insomma anche una delle poche cose buone cioè le ristrutturazioni edilizie sono riuscite a buttarle in vacca l'hanno buttata in vacca potranno farle le certificazioni edilizie addirittura al 110% ma soltanto i condomini le IACP cioè i grandi strutture ma voi che avete il vostro quartierino il vostro appartamentino col cavolo che lo fate se il condominio non decide di fare un miglioramento quindi questa cosa può valere varrà per i condomini io sono contento e meglio di nulla ma comunque per voi che avete la vostra sì forse per le villette unifamiliari al mare potrebbe andare però insomma stiamo parlando di una cosa molto depotenziata rispetto a quello che pensavo io nei giorni scorsi nel frattempo il Sole 24 ore ci spiega che stanno litigando perché non gli bastano i 55 miliardi ne vorrebbero altri 6-7 e questi sono miliardi tutti buttati nel cesso perché e questo qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dirlo io lo dico e me ne fotto se tu dai 500 euro di bonus vacanza come ci ha spiegato Bocca che è il presidente della Federalberghi magari hai speso un miliardo di questi 55 hai dato 500 euro di cui 50% di credito fiscale 50% all'albergo e poi lo devi mettere nella tua dichiarazione di reggi una porca puttana di complicazione che risolve il problema? no non risolve niente è soltanto per quelli che hanno l'isee basso cioè hanno pochi soldi che secondo loro potrebbero rimettere in piedi il cala di volpe potrebbero rimettere Capri potrebbero rimettere in piedi Palermo potrebbero rimettere lo splendido di Portofino ecco secondo loro con i 500 euro l'offerta turistica italiana potrà godere di qualche cosa è una mancia elettorale che va benissimo ma per gli autostoppisti non va bene per rimettere in piedi un'industria culturale del turismo come quella italiana che dovrebbe avere miliardari che vengono qua a cui gli fai pagare 100 euro sapete che cosa? la mancia non 500 euro di credito fiscale 100 euro la mancia e noi pensiamo di dare quel 500 euro rimettere in piedi il sistema turistico italiano sono dei drogati sono dei drogati se pensano che questo sia il caso ma poi andiamo avanti ci sono tantissime altre notizie la cosa di Bonafede è la più bella cioè Bonafede fa il decreto ieri sera in tutta furia per rimettere in galera quelli che lui stesso con una circolare aveva tolto dalla galera e sapete come fa a rimetterli in galera? beh è molto semplice lo spiega la Milella oggi bisogna verificare ogni 15 giorni che quelli che lui ha messo fuori galera ci siano le condizioni perché siano fuori galera quindi evidentemente li hanno messi fuori dalla galera e come li hanno messi fuori dalla galera? con un decreto con una circolare che aveva fatto il suo ministero ragazzi questa è una roba da matti soltanto il fatto quotidiano che non ha vergogna nella sua difesa del governo riesce a titolare il governo approva il decreto e l'emergenza si ferma vai Wonder Woman adesso altro che DJ Fofò il nostro ministro della giustizia lui è Superman perché il governo approva il decreto e l'emoragia si ferma l'ha approvato ieri sera alle 21 toc toc Bonafede l'ha approvato ieri sera alle 21 e già si è fermata l'emergenza questi sono proprio capito questi veramente non è il pusher che devono cambiare devono cambiare proprio i caratteri con i quali scrivono fantastico intanto la come si chiama non ci potete credere non ci potete chiedere non ci si può credere la questione delle mascherine la questione delle mascherine è talmente straordinaria che oggi io ho letto su Repubblica gli imprenditori tra cui questa altotesina che ha detto prima ci hai istigato Arcuri a cambiare le nostre produzioni per fare le mascherine e poi ci fotti facendole pagare 50 centesimi ma poi io dico una cosa l'unica cosa i cittadini pagano le mascherine non 50 centesimi ma 50 più IVA cioè 50 più 22% di IVA che fa 61 quindi 11 centesimi in più che non è poco 11 centesimi su 50 ma perché lo Stato con Arcuri con Conte con questi fenomeni l'unica cosa che potevano fare era zerare l'IVA e non l'hanno fatta una riga guardate che so scriverla anche io non sono un consiglio del Stato dal giorno tal dei tali le mascherine chirurgiche non avranno più alcuna imposizione diretta indiretta IVA chiamatela come cavolo mi pare una riga poi la fate scrivere da uno che se ne intende di questioni fiscali una riga devi scriverla da quel giorno potevano fare un decreto invece di 100 decreti un decretino piccolo una riga senza metterlo nel grande decretone che arriverà a maggio anche se è di aprile questa riga non l'hanno fatta e stanno a rompere le palle perché le mascherine secondo loro costano 50 centesimi come oggi Repubblica spiega benissimo che il prodotto con cui si fanno quelle mascherine che è un tessuto che viene dagli Stati Uniti e viene fatto o dalla Cina o dagli Stati Uniti ha avuto dei prezzi talmente alti che 50 centesimi la mascherina non è il profitto del cattivo imprenditore italiano che ha già speso i soldi per le macchine ma che nasce dal fatto che la materia prima oggi siccome la chiede tutto il mondo sale di valore il petrolio quando lo chiedono tutti sale di valore quando lo chiede nessuno scende di valore questa roba qua banale fatta anche a disegnini forse ad arcuri si potrebbe disegnare sul MES la cosa più interessante la schiva oggi la Bufacchi sul Sole 24 Ore che spiega perché conviene il MES dal punto di vista tecnico non entra nelle valutazioni politiche ma in quelle tecniche ti danno 10 anni soldi allo 0,1% in realtà non ci dovrebbero essere condizioni eviti di fare debito pubblico e non fai aste che sono sempre pericolose anche io riesco a capire che il MES in queste condizioni è una cosa buona e giusta tecnicamente il punto che tutti si chiedono è se poi dopo queste condizioni qualcuno ce le porrà gentiloni ovviamente vatti a fidare di lui dice di no infine è stata liberata Silvia Romano il pezzo più interessante come sempre avviene in queste occasioni lo fa scusatemi Biloslavo si è parlato di un ricatto di 4 milioni e quindi ieri abbiamo detto fantastici servizi segreti italiani peraltro con i turchi e i somali quindi con i nostri diciamo turchi nei confronti dei quali in realtà gli stessi che oggi applaudono a questa operazione forse non è che sono così appassionati degli accordi con i turchi ma il punto fondamentale è che questa è stata una lunga trattativa probabilmente fatta dai servizi dice Biloslavo per tirar fuori questa ragazza da una situazione incredibile pagando un riscatto a carico dei contribuenti oggi non posso che essere d'accordo con l'unica cosa che vale la pena essere d'accordo con i genitori i cui comprendo perfettamente la gioia di poterla riabbracciare tutto il resto è diciamo ininfluente sui giornali di oggi poco altro se non come ho iniziato prima il fatto che dobbiamo sempre e solo ringraziare contro questa delinquenti italiani che si vanno a fare le reste gli assembramenti nei parchi ragazzi non ce la facciamo uscire così non ce la facciamo non facciamo per la libertà per il giornale unico del virus e per tanti di voi che ancora sono convinti che se ci sono quattro ragazzi cento ragazzi che vanno ai navigli dove c'era passato tutto il mondo precedentemente così come hanno fatto i loro omologhi in tutte le altre città del mondo durante il lockdown beh quelli sono dei delinquenti di cui vergognarsi io di loro non mi vergogno affatto ciao ciao